we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi abbiamo una valanga di novità per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite vedremo il nuovo bundle in arrivo ufficializzato già da epic games ma parleremo anche di quello che sta per accadere e di tante altre curiosità relative alla season 4 che oramai si sta avvicinando prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi ed è un ricordo che voglio fare a tutti poche le ore rimanenti per completare o ottenere la beta open degli avengers ragazzi ve lo ricordo di nuovo perché vi regalerà una volta completata la beta questo bellissimo set di picconi che stravolgono ovviamente tutta l'idea che avevamo del picconare le strutture o le cose varie in giro per la mappa tirerete letteralmente dei cazzotti ed ecco qua ragazzi tutte le date importanti oramai dal 7 al 9 agosto c'era il pre order su ps4 mentre dal 14 al 16 c'è l'open beta la potete prendere tutti giorno iniziale oggi anche per gli utenti di xbox che potranno fare il pre order della beta mentre il 21 e il 23 agosto sarà invece la volta dell'open beta su ps4 nuovamente e su xbox quindi mi raccomando ragazzi non dimenticate di potervi prendere questo premio completamente gratis e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle informazioni ancora per il summer splash abbiamo finalmente delle date per tutta la rotation delle nuove ltm quindi le modalità a tempo che trovate selezionando il tipo di gioco rex to reach in squad il 15 e il 16 quindi ultimo giorno oggi la tank battle in solo il 17 e il 18 la tank battle in duo il 19 e il 20 knockout air raid in squad il 21 e il 22 the gateway in duo il 23 e il 24 e the gateway in squad il 25 e il 26 questo continua a confermare ragazzi che ufficialmente la season terminerà il 26 agosto non ci saranno di lei io ovviamente ho un hype che mi sta salendo in una maniera incredibile non vedo l'ora di vedere che cosa accadrà nella season 4 ma qualcosa sappiamo perché sbada bam possible leak uno dei più grandi leakers mondiali è stato contattato da una fonte che lui sostiene essere molto affidabile dove dice epic sta programmando per preparare come skin segreta nella season 4 la skin di wolverine mamma mia ragazzi continua questa collaborazione con marvel e con i supereroi di marvel ovviamente che è iniziata con deadpool sta continuando con thor e aquaman perché tor in realtà non sappiamo ancora se arriverà oppure no ma lo sapete meglio di tantissime le informazioni che riconducono a lui e wolverine wolverine ragazzi dovrebbe essere la skin segreta della prossima season non abbiamo altre informazioni ufficiali ma incrociamo le dita tanta tanta roba e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ve lo ricordate questo bel faccione sorridente ecco questo signore ragazzi è drake lo ricorderete senz'altro per i famosissimi duo che faceva con ninja e ovviamente per il suo grande successo da milioni di visual arriva una nuova informazione molto interessante un po la spoilerata lui un po sta girando per i vari forum per i vari siti dedicati a fortnite potrebbe essere pronta una nuova skin che entrerà a far parte del set delle icon series dopo ninja e loser fruit drake potrebbe proprio arrivare ragazzi quindi per tutti i fan se ce n'è qualcuno tanta roba per tutti quelli che non lo conoscono tanta roba per noi una nuova skin tanta roba e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle nuove informazioni per quanto riguarda sempre la season 4 e sembrerebbero questi dei nomi di alcune skin come vi ricordo atena comando è la sezione la sottocartella dedicata alle skin che stanno per arrivare la m sta per maschile la f sta per femminile quindi parti gold fast food dennis e qua potremmo aprirci un argomento potrebbe entrare un nuovo una nuova icona per quanto riguarda il cibo dopo il tomato dopo il dur burger poi c'è il gelato insomma ne abbiamo viste veramente tante fast food dennis rabbit green sempre maschile per quanto riguarda invece femminili middle eastern e weapon smith non abbiamo purtroppo nessuna immagine anche perché credo che non siano proprio presenti nei file di gioco dovremo aspettare la patch 14.00 che è quella ovviamente che ci proietterà nella prossima season e altre notizie arrivano per quanto riguarda invece i nomi di alcuni balli secondo me potrebbero essere o del battle pass ma ovviamente non tutti o comunque i primi che arriveranno harm cross dance belly dance carnival coconuts dues juju mishmash power up rock band e swinging style come vedete alcuni sono ovviamente a tema musicale altri tipo coconuts a tema estivo ancora non so bene perché mentre gli altri non ci resta semplicemente che scoprirli quindi anche delle novità per la prossima season ve le dico sempre e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sbada bam arriva ieri come un fulmine a ciel sereno un messaggio direttamente nel sito ufficiale di ep games che annuncia un nuovo bundle bundle the last love bundle la risata finale o meglio ride bene chi ride ultimo tradotto in italiano tutti lo chiedevano addirittura dall'anno scorso raga io mi ricordo nell'estate scorsa quando ero in vacanza si vociferava di un bundle di batman quando vi ricordate che c'era c'erano quei richiami al film di it che poi sono un po sfumati nel nulla i palloncini rossi ecco da lì si parlò di batman quindi si pensò anche che sarebbe arrivato un bundle dedicato a joker e dovremmo comunque aspettare novembre novembre per questo bundle vi dico direttamente le informazioni che sono scritte sulla pagina ufficiale notizia bomba il bundle ride bene chi ride ultimo porta joker poison ivy e altri su fortnite con il ritorno di batman catwoman e harley queen in fortnite dobbiamo riaccendere il bat segnale per le grandi notizie in arrivo quest'autunno joker l'arci nemico di batman arriva su fortnite il 17 novembre con il bundle ride bene chi ride ultimo scopre tutti gli oggetti joker qui sotto come il costume di joker il dorso decorativo ghigno di morte il piccone tiro mancino il piccone la vendetta di joker e le mot pesca una carta joker sarà affiancato da avversari vecchi e nuovi poison ivy la femmine fatale floreale di gotham è pronta per mettere le radici sull'isola e già qua le radici sull'isola potrebbe essere qualcosa di più che un semplice bundle mentre mida ritorna con il suo nuovo costume re mida il bundle ride bene chi ride ultimo è disponibile per l'acquisto digitale o fisico e include mille vbux l'edizione fisica è disponibile per ps4 nintendo switch e xbox one inoltre arriverà in tempo per il lancio delle console di nuova generazione ps5 e xbox series x per i giocatori su mobile e pc abbiamo pensato a voi presto vi mostreremo come acquistare il bundle fortnite ride bene chi ride ultimo beh ragazzi devo dire che è uno dei bundle visto così più fighi in assoluto adesso parliamoci chiaro dai ci sono dei bundle belli ma qua parliamo del joker ragazzi tanta roba parliamo di poison ivy parliamo anche del nuovo mida mi piace davvero tantissimo e non vedo l'ora di vederlo come vi ho detto il 17 novembre e andiamo all'ultimo argomento di oggi più che altro è un'immagine che sta girando che sinceramente non so se prendere o prendere con le pinze quindi io ve la faccio semplicemente vedere arriva un una serie di skin dedicate al mostro dello slime che potrebbero essere inserite come outfit acquistabile su full guys giochino ragazzi che continua a tenere testa ai più grandi continua a essere visto e giocato da migliaia di persone veramente cool questo stile per il nostro fagiolino staremo a vedere se ci hanno preso oppure no insomma ragazzi anche per oggi io vi ringrazio per avere guardato il video news mi raccomando non dimenticate di schiacciare quel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao